Vediamo se mia mamma ci casca, qua la saluto e lei ha il telefono in mano come vedete Ora le mando la foto del suo telefono dicendo che l'ha dimenticato, vediamo cosa succede Non ci credo, torna indietro Arriva, arriva, arriva Ora è stato quel telefono Dov'è? Prendilo Dov'è? Domanda la foto, dov'è? Ti sei cascata No, ma perché? Non ci credo Cosa sei morto che non fai niente? Fabio, ma non ci credo che sono venuta indietro Questo lo metto No, non lo mettere perché sembra una deficiente Non lo mettere